ciao a tutti da bibi froff vediamo in questo video di parlare di nuovo delle disequazioni di primo grado ma approfondendo un pochino i discorsi e quindi parlando delle disequazioni fratte vediamo di che cosa si tratta allora vediamo qui un esempio di disequazione fratta che cos'è una disequazione fratta è una disequazione che presenta una frazione e poi appunto il simbolo di maggiore o minore quindi una disequazione fratta può essere vista come il rapporto di due polinomi di primo grado e si impone ad esempio in questo caso che questo rapporto tra i due polinomi sia minore di zero allora dobbiamo intanto ricordarci ripensando alle frazioni algebriche dobbiamo ricordarci che il denominatore non può mai essere uguale a zero perché altrimenti la scrittura perde di significato quindi il rapporto di questi due polinomi p di x di primo grado non è definito per quel valore che annulla il polinomio a denominatore in questo caso meno 2x più 2 se noi risolviamo per la x otteniamo che per x uguale più 1 il denominatore si annulla quindi questo valore più 1 dobbiamo tenerlo presente perché è un valore che deve essere escluso allora dobbiamo cercare di capire adesso che cosa dobbiamo fare allora intanto cerchiamo di ricordarci bene la simbologia in una disequazione possiamo sempre trovare i simboli maggiore minore maggiore uguale minore o uguale e se avete visto il video precedente vi ho spiegato che maggiore uguale minore uguale significa che oltre a a considerare tutti i valori maggiori o minori del valore che troviamo dobbiamo anche considerare il valore che troviamo ad esempio maggiore uguale 2 vuol dire che diciamo la mia disequazione valida per tutti i valori maggiori di 2 ma anche uguali a 2 in questo caso però stiamo parlando di disequazioni fratte quindi dobbiamo calcolare il segno del rapporto ma il segno del rapporto di due polinomi coincide col segno del loro prodotto perché noi sappiamo che la divisione non è altro che l'operazione inversa della moltiplicazione quindi trovare il segno del rapporto o trovare il segno del prodotto alla fine è la stessa cosa domandarsi quando tale segno sia maggiore maggiore uguale minore o minore uguale a 0 è il compito della disequazione di primo grado fratta allora vediamo un pochino che cosa possiamo vedere abbiamo qui una disequazione fratta quindi abbiamo 3x più 5 fratto meno 2x più 2 minore di 0 intanto abbiamo escluso il valore x più 1 che annulla il denominatore solo dopo aver escluso questo valore è possibile valutare il segno del prodotto 3x più 5 per meno 2x più 2 abbiamo detto che il segno del prodotto del rapporto è la stessa cosa che cosa significa risolvere la disequazione la nostra disequazione ci chiede di vedere se in quali intervalli il rapporto col prodotto risulti essere negativo in questo caso negativo perché minore di 0 positivo se fosse maggiore di 0 quindi la condizione necessaria affinché tale prodotto sia minore di 0 e che siano di segno opposto i due polinomi numeratore denominatore della disequazione perché noi sappiamo che in algebra quando un prodotto viene negativo quando i segni sono diversi più per meno fa meno invece più per più fa più quindi quando i segni sono uguali meno per meno fa più la risultato è positivo e lo stesso la stessa regola vale per quanto riguarda le disequazioni andiamo avanti e vediamo quindi arriviamo proprio alla situazione cosa facciamo adesso studiamo il segno del numeratore e poi il segno del denominatore allora vediamo quando il numeratore è maggiore di 0 il numeratore maggiore di 0 qui ho fatto i calcoli per x maggiore di meno 5 terzi e quando il denominatore è maggiore di 0 qui ho dimenticato di scriverlo maggiore di 0 quando x è minore di più 1 allora avremo il numeratore maggiore di 0 per questo valore x maggiore di meno 5 terzi e il denominatore sarà maggiore di 0 per x minore di più 1 allora qui vi ho fatto una tabellina che è quella che si fa di solito quando si risolvono le disequazioni si prende in considerazione il numeratore e si mettono i segni negativi o positivi qualcuno mette dei puntini oppure la linea intera e si indica quando i valori sono negativi e quando i valori sono positivi qui abbiamo detto che x è maggiore di 0 per x maggiore di meno 5 terzi quindi avremo tutta questa zona che è maggiore di 0 mentre l'altra zona è minore per quanto riguarda il denominatore avremo maggiore di 0 per x minore di più 1 quindi qui sarà maggiore di 0 allora quando il diciamo la composizione dei due mi darà segni positivi e negativi allora nel primo intervallo lo vado a mettere in bianco quindi da meno infinito a meno 5 terzi avrò i segni diversi quindi qui avrò meno nella zona tra meno 5 terzi e più 1 vedrete che abbiamo più e più quindi segni uguali avrò più poi da più 1 a più infinito avrò di nuovo i segni diversi quindi meno allora qual è il risultato di questa disequazione che cosa possiamo dire che tutta la disequazione che abbiamo considerato sarà minore di 0 per x minore di meno 5 terzi e per x maggiore di più 1 ok quindi nelle zone che vedete segnalate con il meno noi avremo il risultato cioè quello che la disequazione ci chiedeva invece nella zona centrale avremmo il contrario quindi se diciamo la richiesta fosse stata invece che minore di zero fosse stata maggiore di zero allora la situazione sarebbe stata al contrario quindi spero che abbiate capito questa cosa allora ripeto dobbiamo trovare i segni del numeratore li scriviamo quindi quando numeratore maggiore di zero quando numeratore minore di zero poi segni del denominatore li scriviamo quando il denominatore maggiore di zero quando denominatore minore di zero poi si devono comporre le due situazioni e vedere quando i segni sono diversi allora viene meno quando i segni sono uguali viene più i segni diversi viene meno e trovo poi la risposta alla mia disequazione quindi tutta la mia disequazione sarà minore di zero per i valori che abbiamo ottenuto qua ma vi faccio vedere ancora una cosa allora andiamo un attimo giù possiamo far notare facendo una rappresentazione grafica che due polinomi possono essere raffigurati nel piano cartesiano con due rette per chi conosce un pochino le rette allora noi abbiamo avevamo come i polinomi quali quali erano erano 3x più 5 quindi avevamo possiamo considerare la retta y uguale 3x più 5 ed è quella inclinata a destra quindi questa y uguale 3x più 5 quella che pende a destra e poi avevamo l'altra y uguale meno 2x più 2 ed è quella che pende a sinistra y uguale meno 2x più 2 allora queste cose sulle rette io ve le avevo già dette in alcuni video precedenti ma già fatti un po di tempo fa dove si parla della retta nel piano cartesiano e vi avevo appunto spiegato come funziona la retta nel piano cartesiano tornando a questo argomento noi possiamo rappresentare i due polinomi come queste due rette e possiamo vedere anche graficamente che quando quando abbiamo diciamo la zona negativa vedete l'abbiamo qui da meno 5 terzi in giù abbiamo la zona negativa e da più 1 in avanti abbiamo di nuovo la zona negativa mentre nelle parti centrali vedete in tutta questa zona qua le due rette vanno in positivo voglio ancora farvi notare una cosa come ho trovato il punto di intersezione p cioè come ho disegnato le due rette le due rette possono essere rappresentate con una tabellina come vi ho fatto vedere nei video precedenti oppure visto che io qua avevo già i due punti di intersezione con l'asse delle ascisse che erano appunto meno 5 terzi e più 1 allora mi sono andata solo a cercare il punto di intersezione perché voi sapete che una retta può essere rappresentata perché passante per due punti allora mi sono andata a fare il sistema di equazioni e potete andarvi a rivedere anche i primi video che ho fatto quest'estate per la prima quindi ho fatto il sistema di equazioni delle due rette ho risolto ottenuto il valore della x che è meno 3 quinti poi sono andata a sostituire nella prima ho trovato il valore della y questo qua e poi ho trovato appunto il punto di intersezione che ha queste coordinate così sono andata poi a disegnarlo nel mio piano cartesiano il punto p e ho potuto disegnare le rette e ho trovato molto interessante notare che appunto anche graficamente posso vedere che da meno 5 terzi in giù e da più 1 in là effettivamente si va nel negativo mentre in mezzo si va nel positivo allora un discorso già un pochino più complesso è un discorso diciamo che sicuramente richiede una certa attenzione e anche una certa conoscenza degli argomenti precedenti quindi prima di avventurarvi ecco nello studio delle disequazioni fratte andatevi a rivedere ovviamente i polinomi andatevi a rivedere le equazioni andatevi a rivedere il primo video sulle disequazioni e poi andatevi a vedere anche le frazioni algebriche io spero che questo sia chiaro voglio ringraziare in questo video anche la collaborazione di Giovanni Mario Boffa che mi ha un pochino aiutata per preparare meglio questa lezione e spero che anche in questo caso si possa dire che la matematica è facile ragazzi dai questo lo possiamo dire se ci impegniamo molto e vi auguro che veramente anche questo argomento sia chiaro allora vi saluto spero di esservi stata utile di solito ricevo sempre dei messaggi molto positivi e quindi sono molto contenta e quindi ciao ciao a tutti e alla prossima da BB Prof ciao